Questo è un gioco come il vecchio musichiere, dovete prenotarvi e dirmi l'interprete della canzone che ascoltate, quindi non chi l'ha scritta o il titolo della canzone, ma semplicemente chi la canta, va bene? Non il titolo ma l'interprete. Giocheranno Pamela, Jake, Marcello e Francesco. Marcello e Francesco assieme, Jake che ha tolto il cappello. Il buzz di riferimento di ogni squadra ovviamente è opposto alla vostra posizione. Jake, rivuoi il cappello? Ovviamente potrete decidere di giocare in attacco o in difesa, quindi aggredire l'avversario o difendere il buzz. 3, 2, 1, prima canzone! 1, 2, 3, alza, il volume nella testa. Bravo Marcello! Primo, piano, 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 piano! L'irruenza! Prima a prenotarsi è stato Marcello! Allora Marcello, questo è facile. Chi la canta? Elodie! Bravo! Un punto per la squadra blu! Grande Marcello! Grande, grande! Un punto per la squadra blu! Viaggio, cortesemente, puoi tenere il buzz? Lo tengo io! Perfetto. Peppe, vieni qua, altrimenti... Devo mantenere i buzz? No, perché capito? Mi stavano rompendo il buzz, capito? E quindi è meglio che tu... Ai posti di combattimento? 3, 2, 1, musica! Di nuovo Marcello! Noi! Piano! Pagava! Pagava! Piano! Si fa male così! Io non lo so, ragazzi! È una faticata! Lei deve stare attento! Ma mi hanno spinto! Non è gutta mia! Stavamo scherzando, non ci sei passata a miglior generale! Non sono io a essermi buttato! Sono loro che mi hanno spinto! Ritorniamo a posto! Scusatemi! Comunque, nonostante l'incidente, Marcello si è prenotato! Non è vero! Certo, si è prenotato! E quindi, chi canta questa canzone? Giovanotti! Giovanotti! 2 a 0! 2 a 0 per la squadra blu! 3, 2, 1, musica! Bravo! Bravo! Difendi! 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 Fermi! Fermi! Fammi la camassa! Questa è la città dell'immensità! Tutto, fai male! Piano, piano, piano! Devi stare a casa! Ti fai male! Piano! Non sono io! Non sono io a buttarmi! Sono loro che mi spingono! Devi fare i talk show! Comunque... Non vuoi essere così pericoloso! Comunque erano i books! No, allora... Senta! Si è prenotata... Un attimo! Un attimo! Si è prenotata Pamela Camassa e dirà che questa canzone la cantano... Giustamente! Un punto per la squadra rosa! e dell'immensità! Un attimo! Non sono io! Torni apposto! Torni apposto! E' questo il metodo! E' questo Pamela! E' questo il metodo! Brava Pamela! E' questo il metodo! Torni apposto! Esatto! Difendere! Lo scassa io la paccetta adesso! 3... Senta! Lei che cosa sta facendo? Chi la canta? Dim chi la canta! Che sta facendo lei con l'imbarco? Piano, non devi solo toccare, devi solo tenere 3, 2, 1, musica! Non passerai lei! Aiuto! Fermi! Piano, fermate! Fermate tutto! Fermi, fermi, fermi! Tiratelo fuori! Jake! Aiuto! Piano! Dove fai male? LVP! Ragazzi, fa bene che amassi si uccidano la sera! Ti daremo in testa! Oddio, vi prego! Pamela si è prenotata, vieni qua! Silenzio! Si è prenotata lei! Ma la canta... Iplatter! Brava! Due pari, due pari! Allora, io direi che chi indovina questa vince tutto, va bene? Maestro, io le voglio solo ricordare che non si vince nulla! Non si spenda così tanto, non ne vale la pena! Lei ci rimane! Lei ci rimane! Lei già deambula a fatica, perché si... Io ho una gamba rotta! Eh, in questo modo, voglio dire! Appunto! Che mi fa anche molto male! Capito! E per quale motivo si batte con questa vemenza? Non si vince niente! Ha capito che non si vince nulla! Ma capisci che è pericoloso? È pericoloso! Si vince! Ci vuole la tua ambulanza! Ma essi non gli aspetti! 3, 2, 1, musica! È più forte di noi! Chi si è prenotato? Eh, vabbè! Ma non è vero! Non si è prenotato! Eh, vabbè! Non è vero! Si è prenotato! Ma non... No, ragazzi! Allora... Allora... Ma noi... No, allora... Per favore, se ne va! La testa, la testa! Allora... Allora, scusate, facciamo... Allora, se dobbiamo fare... Allora, dire, parlando! Portalo, portalo via, portalo via! Non è giusto! Portalo via! Vince la squadra rossa! Praticamente! E ho fatto in modo che non lo toccasse! Hai capito? Quindi... Non è vero! Sergio! Sergio! Chiedo aiuto dalla regia, perché... Vorrei essere certo della regolarità di questa competizione. Tu mi confermi che Paolo Antoni non ha vinto? Confermo! C'è sempre con la bro! Ti si chiama la polizia dei registi! Io ti faccio arrestare! Piano, piano, piano! Piano, piano! Piano, piano, piano! Basta, 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 basta! È rotto! Basta, basta! Basta, basta! La gamba, qua!